Radio Ciao, le ultime notizie. Buona serata e bentrovati all'ascolto da Barbara Salammeri. Melania Rea, prima di essere aggredita alle spalle, si era abbassata volontariamente i pantaloni, forse per fare pipì. E' quanto emerge dalla perizia del medico legale. Intanto, dopo la richiesta di arresto dei PM di Ascoli nei confronti di Salvatore Parolisi, marito della 29enne, interviene...